E' una buona giornata miei cari ascoltatori quando sono le 11, 17, primi 15 secondi da Biancastella Zanini, dalla sede Rai del Friuli Venezia Giulia, dalla regia 5 e in regia c'è Carlo Morello alla console e Dario Caroli che segue la parte registica. Ben ritrovati è venerdì e questi sono gli appuntamenti con la storia. Ho un bel libro di fronte a me che ci farà parlare del periodo del fascismo, della seconda guerra mondiale, della nostra avventura coloniale in Africa quando sognammo la classe politica musoliniana, sognò un impero, poi ci farà tornare qui in Friuli, la resistenza, gli anni del terrorismo, ma dico subito il nome del libro, è Ulderico e il figlio irrequieto, La guerra di Etiopia e le tensioni degli anni 70 sullo sfondo di una storia familiare. Lo trovate per i tipi di Gasperi Editore e Circolo Culturale Novarca, voluto anche dal Circolo Culturale Novarca, l'autore è Carlo Bressan che è arrivato adesso a filo della trasmissione da Aielo del Friuli da Udine. Buongiorno Carlo Bressan. Salve, ciao. Ben arrivato, strada difficile oggi. Sì, oggi con blocchi stradali. Allora lo presento bene, grazie di essere arrivato ugualmente. Carlo Bressan è nato ad Aielo del Friuli nel 1946, diciamo la data perché è importante per collocare il papà, le avventure sue, le vicissitudini anche passate da Carlo Bressan. Dopo una laurea in geologia all'Università degli Studi di Trieste, ha insegnato matematica e scienze nelle scuole, poi ha operato tantissimo dagli anni Sessanta a livello culturale quando ha contribuito a fondare il Circolo Colavini di Aiello, importante. Poi ha cambiato mestiere, dal 90 opera nel campo assicurativa. Perché si è usciti dalla scuola Carlo Bressan? A dire il vero, io sono entrato nell'assicurazione da 16 anni, lavorando per mio zio perché era un subagente, asmatico, bravo, intelligente, terzo elementare, ma acuto, e mi ha insegnato il mestiere e si doveva lavorare, perché una volta da ragazzi si lavorava e si poteva. E io ho imparato un mestiere. E poi l'ho coltivato e poi sono entrato in generale. Assolutamente, bene, Carlo Bressan, Ulderico e il figlio irrequieto. Ulderico Bressan, padre di Carlo Bressan, nasce ad Aiello del Friuli il 24 novembre 1907, ha la sorella Virginia e poi il fratello Giuseppe, che saranno molto importanti, l'ambiente familiare. Carlo Bressan, di tuo padre, di tua nonna? Ecco, mio padre era un maestro, il maestro, al mestri, ecco, non un maestro, il maestri del paese, ecco. Era una persona con una grande formazione culturale, aveva studiato i gesuiti subito a Gorizia, anzi aveva studiato grazie ai gesuiti, perché è il parroco di San Luigi, Don Caligari si era andato alla sua madre e come facevano quei ragazzi più adottati, gli aveva detto se voleva continuare a studiare, perché io già da due anni faceva il fabbro, per cui io ho il cuore e il portone fatto dal mio padre in paese. Quindi continua a studiare? Continua a studiare, lo vediamo in una foto sotto la casa del popolo Circolo di Cultura ad Aiello, nel 21, pochi mesi dopo verrà devastata questa casa da una squadraccia, periodo fascista, però otto anni, nove anni dopo, lui si ruola volontario e chiede di entrare come ufficiale nell'esercito. E qui ti fermo perché mi stai bruciando le tappe, perché io voglio capire prima di tutto com'era l'ambiente di Aiello, anche l'ambiente culturale, Aiello tra i due mondi, quello italiano e quello austriaco. Ecco, Aiello è un paese, diciamo così, di confine proprio, perché ad Aiello, subito dopo Aiello, a Visco, passava il confine fino al 1915. E noi in pochi anni abbiamo cambiato confine più e più volte, cioè nel 15 sono arrivati i cavaleggeri e mio padre e mia nonna, Maria, li ricevono e li ricevono con una certa diffidenza, ma diffidenza anche da parte dei cavaleggeri che arrivano, che chiedono l'acqua e chiedono a mio padre di bere, di provare l'acqua, perché si aspettano che sia avvelenata. Mio padre si aspetta che gli italiani gli diano le caramelle avvelenate, perché la nonna gli aveva detto che gli aerei italiani, i primi aerei nel 15, buttavano caramelle avvelenate. Questo era il clima. Aiello era un paese austro-ungarico, cioè il 90% della famiglia Bressan era di sentimenti, si dice, austro-ungarici, imperiali. La famiglia di mia madre, Malacrea, invece era di sentimenti italiani e aveva l'emporio. Riusciamo a spiegare ai nostri ascoltatori l'adesione di papà Ulderico Bressan, che sarà poi il maestro del paese, nel secondo dopoguerra, l'adesione al fascismo di Mussolini. Ecco, la situazione, l'evoluzione, diciamo, di un ragazzo giovane, particolarmente istruito, perché veramente con i salesiani c'era una selezione durissima. Studi classici. Studi classici, ma anche mnemonici, ma non solo mnemonici, conoscere la memoria, posso dire, tutta la letteratura italiana, divina commedia, Carducci, Foscolo, ma come niente. Se gli davi un verso, continuava. E non era tanto... Aveva poi cercato di andare ulteriormente all'università, ma non è riuscito per i soldi. E aveva fatto anche le magistrali, poi per poter insegnare, no? Aveva preso la licenza. Classico, perché aveva fatto l'esame dello Stellini a Udine, in passaggio. Aveva fatto il tentativo, aveva fatto l'esame per maestro, per diventare maestro. Ecco, gli era andato bene per il rotto della cuffia, perché in canto era proprio negato. Ecco. Allora, l'adesione al fascismo, e poi sentiremo un po' di Mussolini, quello che poteva sentire anche Ulderico nei discorsi. L'adesione al fascismo, rispetto al 21, nel 28, 29, quando aderisce, il clima è cambiato nel paese, cioè ormai un paese pacificato a Iello e subisse in particolare una trasformazione, perché un paese di sentimenti austriaci, prevalentemente, perché tutti avevano fatto il militare con l'Austria, e subisse una forte pressione. Si inizia la costruzione della Casa del Fascio, c'è una pressione per portarlo verso sentimenti italiani. E mio padre, amico del federale, di Zande Giacomo, ed è l'unico modo per dare un aiuto di fatto alla famiglia, perché poco dopo, nel 29, inizia la crisi, la rivolutazione della lira e la nonna per aggiustare la stalla, per pagare il mutuo della stalla, alla fine dovrà vendere mucca, stalla e casa. Abbiamo detto nel 1926, Ulderlico Bressan fa la visita di Leva, poi nel 29, appunto, è volontario al corso ufficiali, fa il corso ufficiali, ed è soggetto a tutta quella che è anche la propaganda fascista. Allora, si è d'accordo o no? Per entrare nel corso ufficiali o aderiva o non entrava, questo era il dato. Certamente. Per cui non è solo una costrizione, è un'adesione verso il fascismo sociale, lo possiamo chiamare, c'era questo componente importante. Certamente. La conquista italiana dell'Africa, e parliamo concretamente della Libia, risale già al 1911, una prima conquista, papà diventa giovane uomo quando c'è il sogno dell'impero. Allora, andiamo a sentire cosa disse Mussolini a Bolzano, c'era nell'aria già le sanzioni per le vicende africane da parte del fascismo, cosa disse Mussolini a Bolzano il 31 agosto 1935, erano iniziate, erano finite le grandi manovre, lui loda tutti coloro che hanno partecipato a queste grandi manovre e coglie l'occasione per dire l'Italia in questo momento deve mostrare i muscoli perché deve avere un proprio impero, comincia a sognare l'impero, ascoltiamo Mussolini. Camerati ufficiali, sotto ufficiali, caporali, soldati e camicinere, sua maestà il re vi dà l'incarico di esprimervi suo alto compiacimento per le prove di resistenza fisica, per la disciplina, per il vostro comportamento, all'elogio sovrano cui dovete essere particolarmente fieri, desidero aggiungere il mio quale ministro delle forze armate, intendo di associare in questo elogio anche le divisioni che hanno manovrato nel Frioli, nella Lombardia, nel Sannio e nelle rimanenti province d'Italia. Con questa grande parata si concludono le manovre dell'anno 13. In altri tempi, dopo la conclusione delle manovre, sarebbe venuto il congedo. Ciò quest'anno non avverrà. Entro il mese di settembre, altri 200.000 uomini saranno chiamati nei vostri ranghi per portare gli effettivi dell'esercito al livello previsto di un milione di uomini. Il mondo deve sapere ancora una volta che fino a quando si parlerà in maniera assurda e provocatoria di sanzioni, noi non rinunceremo a un solo soldato, a un solo marinaio, a un solo avviere, ma porteremo al livello massimo possibile della potenza tutte le forze armate della nazione. Camerati ufficiali, sotto ufficiali, caporali, soldati e camicenere, le prove che avete fornito in questi giorni, ma soprattutto l'altissimo morale che vi anima, danno la certezza e se domani la patria vi chiamerà ad assolvere più astri i doveri, voi lo farete con entusiasmo, con coraggio, con risoluta decisione, fino in fondo. Camerati ufficiali, sotto ufficiali, caporali, soldati e camicenere, saluto il re! rientriamo in studio, questa era una parte del discorso di Venite Mussolini a Bolzano il 31 agosto 1935, tra poco la guerra vera e propria, la guerra d'Etiopia che scatta il 3 ottobre 1935. Carlo Bressan, tuo padre Ulderico nel 35, dove lo troviamo? Che cosa fa? Fino al 35, dopo il servizio militare obbligatorio, lui insegna, è maestro in paese e comincia la sua carriera di maestro dal mestri, ma a un certo punto decide di arruolarsi sia per il sogno ma sia anche per la paga perché pensava di poter ancora salvare la casa che era gravata di debiti dal... Quindi c'era un sogno, il sogno di un'Italia grande da un lato e c'era il bisogno economico. Questi sono i due elementi. Doveva mantenere i fratelli che erano in situazione economica difficile, erano orfani da sempre. E nel frattempo c'è Mussolini dicevo che il 2 ottobre 1935 da Roma proclama l'annuncia la mobilitazione. Ascoltiamolo. Camise nere della rivoluzione uomini e donne di tutta Italia italiani parti nel mondo oltre i monti e oltre gli oceani ascoltate un'ora solenne sta per scoccare nella sbarria della patria. 20 milioni di italiani sono in questo momento raccolti nelle piazze di tutta Italia. È la più gigantesca dimostrazione che la storia del genere umano ricordi. 20 milioni fa un cuore solo una volontà sola una decisione sola. Questa manifestazione vuole significare che l'identità tra Italia e fascismo è perfetta assoluta inalterabile solo dei cervelli illangriditi da puerili illusioni o intorpiditi in una crassa in lanza possono pensare il contrario poiché s'ignorano che cos'è questa Italia fascista del 1935 durante 13 anni abbiamo pazientato mentre si stringeva attorno di noi sempre più rigido il cerchio che vuole saffocare la nostra irrompente vitalità o le slobvia abbiamo pazientato 40 anni ora basta rientriamo in studio da questa mobilitazione l'annuncio della mobilitazione e la folla oceanica e mi ricordava Carlo Bressan autore di Ulderico e il figlio irrequieto la guerra di Etiopia e le tensioni degli anni 70 sullo sfondo di una storia familiare Gaspari editore mi ricordava dico Carlo Bressan il ruolo ma negativo assolutamente negativo della radio nel diffondere l'ideologia nazista fascista e anche nazista poi cioè i mass media quelli che oggi chiamiamo i mezzi di comunicazione al servizio specialmente in Italia sempre del più potente è una storia parecchia italiana parecchia parecchia italiana in Italia particolarmente acuta Carlo Bressan parliamo allora della partenza di tuo padre e poi il libro interessante miei cari ascoltatori perché una buona metà della pubblicazione racchiude gli album fotografici di Ulderico Bressan le fotografie scattate in Africa dalla quale dalle quali è partito il figlio Carlo proprio per scrivere l'opera allora nel 35 parte sia per costruire l'impero ma anche per la paga perché era per gli ufficiali era particolarmente ricco erano le mille euro e le mille lire al mese cioè non era poco e deve mantenere anche e contribuire al mantenimento dei fratelli ma non è l'unico sono 500 mila che a vario titolo partono per l'avventura dell'Africa per cui c'è un flusso e come viene finanziato questo flusso viene finanziato l'ho scoperto recentemente dalla finanziamenti raccolti dall'Ina l'Ina era stato da poco costituito da Beneduce grande economista socialista non iscritto al partito fascista e amico di Mussolini che mette in piedi la struttura economica dell'Italia anche del dopoguarda Beneduce di cui tuo padre ti parlava sempre lo portava come esempio positivo praticamente parte da dove e dove arriva papà in questa prima tomata vedremo che andrà di nuovo poi parte lui parte da Napoli e arriva passa per ovviamente Suez e arriva a Mogadiscio a Mogadiscio il porto non esiste di fatto le navi si fergano in rada e poi giù sono le foto dove si vedono le prime foto dove si vedono anche lo scarico delle merci e delle persone a cosa viene addetto cosa fa papà è ufficiale radiotelegrafista lui ha fatto il car il corso ufficiale a Spoleto e diciamo opera in questa guerra terribile guerra dove vengono usati anche i gas la prima volta i gas anche una cosa recente ho scoperto anche la prima guerra mondiale sì ma in questa guerra di Etiopia è stato nascosto l'uso di gas e anche Montanelli che in un primo momento li negava verso la fine della sua vita ha preso atto che i gas sono stati usati sia nel fronte nord da Badoglio sia nel fronte sud da Graziani per sfondare le linee perché l'Etiopia non era terra di leoni era una terra con uno stato e con un esercito tra l'altro appoggiato anche dall'inglese la vittoria sarà si può dire veloce quella appunto relativamente veloce allora andiamo al 5 maggio 1936 quando Mussolini comunica la vittoria un grande amicinone della rivoluzione uomini e donne di tutta Italia italiani e amici dell'Italia al di là dei monti e al di là dei mari ascoltate il maresciallo Badoglio telegrafa oggi 5 maggio alle ore 16 alla testa delle frutte vittoriose sono entrato in Adice dell'Italia e al mondo che la guerra è finita annuncio al popolo italiano e al mondo che la pace è ristabilita non è senza emozione e senza fierezza che io dopo 7 mesi di aspre ostilità pronuncio questa grande parola ma è rettamente necessario che io aggiunga che si tratta della nostra pace della pace romana che si esprime in questo semplice irrevocabile definitiva proposizione l'Etiopia è italiana rientriamo in studio dopo aver sentito Mussolini che dichiara appunto la vittoria l'Etiopia è italiana e presentiamo il libro a Ulderico il figlio il requieto di Carlo Bressan ma adesso apriamo una finestra e lo facciamo con l'aiuto della dottoressa Liliana Picciotto buongiorno dottoressa Picciotto benvenuta la ringrazio tantissimo d'aver trovato tempo noi è una studiosa della persecuzione anti-ebraica è responsabile della ricerca presso il centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano diventato fondazione centro che nasce già negli anni 50 nel 55 poi diventa fondazione la conoscete tutti per il suo famosissimo libro ha avuto più edizioni il libro della memoria gli ebrei deportati dall'Italia 43-45 sono 8900 se non sbaglio è vero l'ultimo dato dottoressa Picciotto forse è andata avanti i nomi raccolti questo dato non è mai definitivo perché andando avanti col tempo nuovi archivi si aprono si trovano nuove notizie quindi paradossalmente noi avevamo pensato che una volta finita la ricerca non avremmo più trovato niente ma invece succede che ancora aperto ancora aperto poi ha moltissimi carichi ha ricevuto moltissimi anche riconoscimenti ma voglio ricordare ancora l'alba ci colse come un tradimento gli ebrei nel campo di Fossoli 43-44 si è occupata anche delle partenze da Trieste ma voglio dire che Liliana Picciotto è nata nel 1947 al Cairo d'Egitto da antica famiglia sefardita quindi gli ebrei spagnoli di origine spagnole di origine siriana e di Aleppo ci racconta almeno un po' per sommi capi e dottoressa Picciotto la storia della sua famiglia sì allora è una famiglia che proviene dal Portogallo questo nome Picciotto è in realtà l'italianizzazione di un nome che si chiama che si dice Peixoto e non si capisce bene se voglia dire pesciolino oppure se fosse un fiume del Portogallo comunque la famiglia è stata espulsa dal Portogallo in seguito alla grande espulsione spagnola della fine del 1400 e si è sparsa nel Mediterraneo prima di tutto è approdata a Livorno è rimasta qualche secolo a Livorno ha preso appunto l'italianizzazione in Picciotto e poi si è spostata verso la Siria c'è una parte della famiglia che è diciamo un po' frantumata in tutto il Mediterraneo e una parte è finita dall'Eppo in Siria e poi appunto dalla Siria questa grande sirianità della famiglia è sempre stata molto ricordata e devo dire in arabo Aleppo si dice Halab e di solito chi viene da Halab che sia ebreo che sia arabo musulmano o anche cristiano incontra sempre con molto molto piacere un altro Halabi in qualsiasi parte del mondo quindi la famiglia rientra poi in Italia una parte nel 36 a causa del fascismo va in Egitto e poi rientra nuovamente in Italia per riassumere dico bene dottoressa dottoressa Picciotto io le chiedo di aprire una parentesi sugli ebrei di Libia insomma durante la seconda guerra mondiale gli ebrei in Libia sotto la dominazione italiana che all'inizio secolo diciamo per quanto riguarda il 1911 eccetera si trovano quasi contenti forse la parola è eccessiva ma insomma durante una prima occupazione italiana si trovano bene poi subentra però il fascismo e che succede succede che intanto parliamo di numeri quella comunità ebraica locale conta circa 30.000 persone che non sono poche diciamo un numero che assomiglia molto al numero degli ebrei nazionali in Italia cioè i numeri sono piccoli anche se queste comunità ebraiche contano moltissimo ma in Libia c'è la situazione è questa che ci sono alcune famiglie diciamo mercantili di grandi commercianti che guardano all'Italia guardano alla Francia alla Spagna per i loro commerci che mandano i loro figli a studiare in Italia e poi c'è una massa di gente poverissima che abita un certo quartiere della città e che parla una lingua giudeo-araba c'è un misto tra arabo e ebraico è occupata nel piccolo artigianato per esempio sono molto specializzati erano molto specializzati nella battitura dell'argento e ci sono ancora in giro dei manufatti molto molto tipici si riconosce subito che sono manufatti degli ebrei della Libia e poi si vestono in una maniera particolare gli uomini hanno questa veste lunga all'araba le donne hanno vestiti coloratissimi con questi foulard di mille colori hanno dei monili cioè diciamo che è proprio una popolazione ebraica arabizzante ecco loro tengono moltissimo la loro tradizione ebraica e ci sono continuamente incidenti tra arabi ebrei soprattutto in questo quartiere chiamato Lahara ci sono sassaiole tra ragazzi ci sono continueriste attacchi continui insomma non è una vita molto tranquilla poi nel 1932 c'è qualche incidente perché allora il governatore era Badoglio e voleva obbligare gli ebrei a mandare i loro figli a scuola di sabato e ci fu una specie di rivolta popolare molto poi sedata con la violenza nel 1933 le cose migliorarono un pochino perché fu nominato governatore Balbo che veniva da Ferrara e che aveva molti amici ebrei cui teneva moltissimo soprattutto la famiglia a Ravenna e quindi diciamo cercò di un pochino malgrado che la dominazione italiana avessero in pugno molto pesante cercò comunque di alleviare un pochino anche l'atmosfera se non che proprio io dico delle cose così a volo duccelle certo assolutamente dobbiamo arrivare alla partecipazione italiana alla guerra proprio a quel periodo allora no dico solo questo che nel 1936 un barbo magari avesse un volto amico nei confronti degli ebrei obbligò tutti quanti ad aprire i negozi di sabato e fu proprio una rivolta popolare di quartiere fu terribile e lui poi ordinò la fustigazione in piazza dei capi della comunità e questo se la legarono al dito per sempre comunque come ricordiamo nel 1938 furono emanate in Italia le leggi anti-ebraiche e naturalmente questo ebbe anche non uno strascico ma una conseguenza delle conseguenze anche in Libia quindi alcune delle 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 leggi che erano in atto in Italia furono messe in atto naturalmente anche in Libia e quindi l'internamento prima di tutto degli ebrei stranieri cioè quelli che non avevano diciamo passaporto locale e quindi molti ebrei erano o di passaporto francese o di passaporto inglese e questi furono prima internati e poi i francesi vennero espulsi verso la Tunisia ma in maniera assolutamente brutale attraverso il deserto mentre quelli che avevano cittadinanza inglese furono arrestati e deportati in Italia e internati poi qui in piccolissimi centri degli appennini nelle Marche nella Toscana e ora si immagini queste persone così completamente sperse con un certo futuro clima inadatto per loro tutto diverso abituati a un clima desertico a una vita di comunità molto molto intensa marcata e quindi in queste specie di non so avevano per esempio avevano svuotato delle scuole o delle caserme vivevano così senza sapere bene neanche che ci stessero a fare in Italia queste persone rimasero per ben due anni qui fino a quando l'Italia fu occupata dalla Germania nazista nel 8 settembre 1943 e allora questi ebrei che stavano in giro internati dalle autorità fasciste italiane stavano naturalmente nell'occhio e quindi se ne accorsero i tedeschi e decisero di prenderli e di deportarli tutti deportarli nel lager di Bergen-Belsen dove morirono per lo più dottoressa no no non morirono perché il campo di Bergen-Belsen a differenza di quanto si possa pensare dato che le terribili fotografie un po' sbelliche che abbiamo visto e film con migliaia di cadaveri eccetera riguardano effettivamente solo l'ultimo mese di vita di quel campo prima questo campo di Bergen-Belsen era un campo diciamo proprio di concentramento dove si concentravano le persone che avevano degli statuti speciali ora chi aveva passaporto inglese era sotto statuto speciale e non veniva mandato anche se ebreo non veniva mandato a morte ad Auschwitz veniva mandato in questo campo Bergen-Belsen e quindi proprio per questa fortunata coincidenza queste persone che avevano cittadinanza inglese che li veniva dal loro essere originari di Gibraltarra si salvarono tutte quindi salvo qualcuno che non ce la fece avere a subire un regime comunque di campo di concentramento devo dire che si salvarono e rientrarono nelle proprie rispettive residenze in Libia rientrano in Libia dottoressa Liliana Picciotto Fargioni io la ringrazierò perché abbiamo una nutrita scaletta almeno per aver accenato a questo elemento io non lo conoscevo neanche tu Carlo Bressan vero il nostro ospite non conoscevamo questo elemento perché insomma sappiamo del nostro rapporto del Bocca e altri dominioni eccetera che studiano il rapporto nostro coloniale nell'Africa ma non sapevamo dell'elemento del rapporto con l'elemento ebraico di quei paesi grazie di essere stata con noi e complimenti al centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano che ci ricorda sempre che cosa abbiamo fatto e si confronta e ci fa confrontare con la nostra storia perché soltanto confrontandoci con la nostra storia c'è il presente e il futuro grazie Liliana Picciotto buon lavoro grazie per la sua trasmissione grazie a lei grazie a lei abbiamo fatto questo lungo escurso ma era interessante Carlo Bressan perché non lo conoscevamo allora parliamo di papà che arriva appunto in Etiopia e degli album fotografici perché da quello parte il libro Ulderico e il figlio irrequieto ecco diciamo dalla sua posizione di ufficiale delle telecomunicazioni ha anche a disposizione una serie di macchine fotografiche di personale specializzato per lo sviluppo e anche per fare le fotografie e inizia la raccolta o a fare anche lui delle foto che documentano la vita soprattutto più che la guerra l'avanzamento del fronte è un viaggio antropologico e lo ricompone questo album al suo ritorno quando torna papà? una prima volta nel 37 torna e gli album sono accompagnati da oltre che le foto sono accompagnati da una scritta delle brevi note sue su questo fondo nero con questo inchiostro bianco e questi album li abbiamo sfogliati decine e decine di volte torna quindi nel 37 poi però nel 41 viene mandato richiamato a Fiume viene mandato alla censura militare di Fiume se non sbaglio l'entrata in guerra dell'Italia va alla censura militare di Fiume ma vuole fare la guerra alla fine si dice non sto negli uffici non sto nell'ufficio e chiede di andare in Libia va in Libia anzi si sposa prima la mamma era di origine? era di Aiello ma la crea la famiglia dei sentimenti italiani nel 18 si sposa si sposa e parte per la Libia parte da Napoli e già queste le storie della partenza di queste navi verso la Libia è sempre stata un ricorrente nei racconti di mio padre perché molte di queste navi sono state affondate che cosa fa papà in Libia in questa occasione? è diventato capitano del genio sa leggere scrivere e far di conto in un esercito non sempre molto istruito e gli danno la responsabilità di costruire di dirigere la costruzione della strada attorno a Tobruk verso il 12 maggio 1943 però gli inglesi lo fanno prigioniero in Tunisia e papà inizia a scrivere e papà poi viene consegnato agli americani e quindi dal 43 al 6 settembre 45 quando giungerà a Trieste sarà negli Stati Uniti d'America si sarà nell'Arkansas a Como in campo di concentramento ha portato un unico ricordo che è un disegno fatto con china mollica di pane e fortunatamente vanno negli Stati Uniti dove mangiano certamente ci parlerà il prossimo ospite dei campi di internamento in questo caso concentramento degli Stati Uniti ma andiamo noi ad ascoltare le prime lettere di papà a mamma Dolores lette da Gualtiero Giorgini sentiamo una prima lettera mia cara Dolores finalmente dopo 40 giorni di prigionia posso scriverti con calma essendo arrivato al campo definitivo qui in America sto bene come può star bene un prigioniero anche se la salute è ottima soffro molto la tua lontananza e quella di Clara non rimane che sperare che tutto finisca presto e bene per poterti finalmente riabbracciare ero preparato da lungo tempo la mia sorte pure mi è stato doloroso il dovermi rassegnare mi ricordo sempre con tanta nostalgia i pochi giorni passati assieme ritorneranno abbi fiducia e voglimi bene come te ne voglio tanto io scrivimi a lungo di te e di Clara saluti ai miei ad Amerigo a tutti scriverò tutte le volte che mi sarà possibile tu fai altrettanto questa è una prima una lettera che Carlo Bressan ha messo nel libro Ulderico e il figlio irrequieto il papà che è negli Stati Uniti d'America prigioniero è stato fatto prigioniero dagli inglesi poi consegnato dagli americani e scrive alla moglie è nata nel frattempo Clara e Clara ha una sorte tragica tua sorella sì era sorte legata alla medicina di quegli anni nasce con un danno cerebrale muore dopo a tre anni e mio padre lo viene a sapere quando ritorna perché non riceve lettere anzi ne riceve una sola di lettere da casa mentre riesce a mandare lettere quindi sentiamo ancora una lettera sempre scritta dagli Stati Uniti da Ulderico alla moglie Dolores vi ho sempre in mente e temo per voi fra i reticolati la mia vita passa lenta interminabili giornate si susseguono senza speranza di una prossima fine domani Clara compie due anni è grande il mio dolore di non averla potuta ancora conoscere e di non poterla baciare e accarezzare almeno una volta fallo tu per me e dille quanto le voglio bene così come lo voglio alla sua mamma saluta tutti per me e ti raccomando i miei fratelli cari affettuosi saluti ti bacio con Clara così Ulderico negli anni di prigionia dal 43 al 45 scrive alla sua famiglia ma noi siamo collegati con Roma dove abbiamo Flavio Giovanni Conti buongiorno Conti buongiorno a voi agli ascoltatori grazie di essere con noi e da oltre 30 anni si occupa di prigionia nel campo degli alleati e autore tra l'altro tra le tante cose dei prigionieri italiani negli Stati Uniti un libro edito per i tipi del mulino ho chiesto a Conti di partecipare anche se brevemente alla nostra trasmissione ma del libro noi parleremo ancora perché è interessante entrare in questo segmento anche perché Flavio Conti mi dice che è proprio un work in progress un lavoro che procede perché i nomi saltano fuori sempre più allora Conti come vengono catturati come vengono trasportati e dove vengono messi i prigionieri degli inglesi e degli americani durante la seconda guerra mondiale la maggior parte dei prigionieri italiani fu fatta nella primavera del 43 e in particolare le ultime settimane prima della chiusura della campagna cioè a maggio complessivamente furono fatti 250 mila prigionieri dell'asse in Nordafrica e di questi 100 mila erano italiani poi successivamente a Pantelleria e in Sicilia ne furono fatti degli altri per cui diciamo complessivamente furono 200 mila i prigionieri catturati in quelle aree c'era un accordo tra gli alleati all'inizio della campagna in Nordafrica che i prigionieri fatti in quell'area sarebbero andati agli Stati Uniti perché gli inglesi non erano più in grado di gestirli per cui tutti i prigionieri tedeschi furono inviati negli Stati Uniti e degli italiani 51 mila furono inviati quelli considerati sicuri non si sa bene con quale criterio fu fatta questa discriminazione ci furono grossi problemi all'inizio di gestione non sapevano cosa fare con questi 250 mila prigionieri in Nordafrica gli americani lo confessa anche a Eisenhower a un certo punto per cui mano a mano tra difficoltà di carattere logistico sanitario li cominciano a inviare negli Stati Uniti usando queste poi diventate famose navi Liberty che erano navi però non attrezzate a trasportare questi bigionieri per cui il viaggio fu molto penoso in 20 giorni fu mantenuti nelle estive uscivano pochissimo a prendere aria quello un aspetto molto carente da parte degli Stati Uniti certamente allora rimanga con noi Flavio Conti perché mi racconterà ci racconterà intanto le presento Carlo Bressan che è qui con noi che la saluta saluto la ringrazio poi diremo qualcosa di Bressan di quello che ho trovato nei miei documenti anche nei suoi documenti ma allora io vi voglio far ancora sentire un documento che per me è ormai storico voi conoscete lo scienziato Paolo Budinici il grande fisico recentemente scomparso è stato nostro ospite e Paolo Budinici giovanissimo laureato va da solo viene chiamato alla leva e lavora nei sommergibili però la sua famiglia scopre che lui è in missione nei sommergibili e lo fa richiamare comunque diventa quasi avviatore e viene messo su una nave e catturata poi questa nave è portata negli Stati Uniti d'America era una nave dei privilegiati di coloro che erano stati portati via dalle famiglie da posizioni di guerra pericolose sentiamo questa sua breve testimonianza era una nave di raccomandati evidentemente era il raccomandato del ministro e allora appunto sempre con questa idea la guerra bisogna farla facciamo qualcosa di interessante e sono andato a fare l'osservatore aereo ho chiesto di andare a fare la scuola di osservazione aerea a Orbetello e così sono diventato osservatore aereo sono andato in Grecia e lì appunto poi siamo andati a Nisida e lì durante una missione siamo stati abbattuti e sono stato portato a prigioniero prima in Inghilterra poi negli Stati Uniti anzitutto sono stato un breve tempo in Inghilterra perché naturalmente agli inglesi c'era la fame anche in Inghilterra e quindi piuttosto che tenere lì dei prigionieri che consumavano viveri andavano i prigionieri a mangiare in America quindi quando le liberty tornavano vuote erano pieni di prigionieri che andavano in America e in America la situazione era anche anomala in quanto stavamo in dei campi di prigionia prima a Monticello e lì c'era un bellissimo campo alberato si stava benissimo avevamo dei cuochi italiani naturalmente prigionieri anche loro i quali ci facevano ogni giorno le tagliatelle c'erano bistecche quindi si stava benissimo dal punto di vista del trattamento del vitto della loggia era tutto tranquillo però non c'era niente da fare allora molti c'è questo fatto interessante che molti a forza di non fare niente per mesi e mesi a un certo momento erano diciamo suscettibili di malattie mentali diventavano matti semplicemente quei pochi io avevo interessi scrivamo filosofia in quel tempo appunto e quindi avevo interessi potevamo avere dei libri i toscanini si avevano mandato tutti i suoi dischi quindi ogni sera c'era un concerto quei dischi di toscanini quindi io stavo abbastanza bene però molti invece che la mattina e la sera non facevano niente o giocavano al brice c'era gente che per 12 ore al giorno giocava a brice si può immaginare terribile lei si trovava in quel campo certamente in parte anche isolato ma ci fu era un fisico un giovanissimo laureato in fisica ci fu la tentazione di dire ecco forse questo è il continente che primeggerà si sapeva già in qualche modo a livello di tecnica e più tardi di tecnologia io rimango qui ci fu mai questa tentazione no per dire la verità perché sarebbe sempre di maniere un prigioniero capisci ci sono alcuni che l'hanno fatto nei campi di prigionieri c'era la possibilità anche in alcuni campi di avere anche contatti con l'esterno con gli oriundi italiani ci sono stati anche dei finanziamenti dei matrimoni e quelli sono rimasti ma in realtà io quando sono arrivato in Inghilterra ho scritto a Fermi perché Fermi è stata la normale ma Fermi non mi ha mai risposto e dopo ho capito perché perché Fermi era in quel tempo stava facendo la bomba atomica quindi qualsiasi corrispondenza con italiani prigionieri era bloccata automaticamente dal servizio segreto perché poteva poteva anche essere che diciamo capisci assolutamente poteva non filtrava e quindi probabilmente Fermi non ha mai ricevuto quella lettera e poi io siccome dopo sette anni io ho fatto insomma servizio militare la guerra la guerra e la prigionier sono sette anni dalla mia laurea io non pensavo neanche di tornare alla fisica pensavo di fare o il filosofo quando sono tornato a Trieste nel 45 alla fine ci hanno portato a casa finita la guerra io non pensavo di tornare agli studi capisci perché sette anni in quel periodo dai 22 diciamo e il 29 sono le anni in cui uno veramente produce e questo era Paolo Budinitz il professore che ha reso famosa a Trieste più che a Trieste nel mondo in quanto cittadella della scienza ha sentito Flavio Conti questa era la sua permanenza diciamo anche se tratteggiata con una frase tanti uscirono di testa e io avevo cosa fare ci racconta allora la prigionia negli Stati Uniti Conti Budinitz ha illustrato molte cose interessanti era così in realtà intanto però bisogna dire che la prigionia negli Stati Uniti fosse sicuramente la migliore nel panorama della prigionia degli italiani nella seconda guerra mondiale non c'è paragone per vari motivi insomma gli Stati Uniti erano molto ricchi c'era questa comunità italo-americana potentissima 5 milioni che Budinitz ha citato c'era la Chiesa Cattolica che interveniva a favore di questi prigionieri però nonostante ciò ovviamente la cosiddetta malattia da filo spinato cioè la lunga permanenza all'interno di reticolati ebbe ovviamente ripercussioni negative su molti prigionieri dai miei studi risulta che almeno 16 prigionieri si suicidarono però bisogna anche distinguere perché dopo l'8 settembre e la cobelligeranza ci fu una scelta ci furono i prigionieri che non vollero cooperare rimasero nei campi come prigionieri tukur come i tedeschi e i giapponesi e ci furono i cooperatori cioè quelli che accettarono di cooperare negli Stati Uniti debbero maggiore libertà guadagnavano potevano uscire nei weekend a incontrare gli italo-americani le donne americane tra l'altro almeno 170 casi di matrimoni si furono perché i prigionieri furono poi dopo la guerra rinviati per legge in Italia però poi molti tornarono comunque bisogna dire i campi erano dei campi attrezzati molto bene erano dei campi spesso nuovissimi l'alimentazione era ottima era la stessa dei prigionieri dei militari americani come prevedeva la convenzione di Genera del 1929 Flavio Conti la interroppo un attimo per chiedere a Carlo Bressan il racconto di papà del campo di prigionieri americano coincide con quello che sta raccontando cioè lui racconta Conti faceva il confronto anche con mio zio cioè il fratello mia moglie di sua moglie che era prigioniero dell'inglese in Kenya durissima è stata la sua esperienza mentre mio padre aveva da mangiare bene leggeva seguiva la stampa anche locale insegnava agli altri prigionieri faceva delle lezioni per cui nonostante la prigionia ecco c'era una certa vita sociale papà era prima nel campo di smistamento di Monticello nell'Arkansas e poi nel campo di Como nelle Mississippi c'è in qualche modo una regola secondo cui vengono scelti questi campi Flavio Conti oppure no mi permetta di correggere allora nel senso che sicuramente risulta dai documenti era Como prima e Monticello come neivano gli americani dopo perché i prigionieri furono prima inviati nei campi secondo un criterio di sicurezza i primi campi erano all'interno degli Stati Uniti non vicino alle coste per esempio c'era a Terbioli Leonard Wood Wayne Garden Florence Ogden Crossville e Como nel Mississippi e Herford nel Texas che diventò famoso perché mi furono inviati tutti gli ufficiali non cooperatori per cui Como a un certo punto chiuse per gli italiani e furono trasferiti a Monticello dove arrivano tutti gli ufficiali di Como incluso Bressan ovviamente che era da quello che mi risulta un capitano e che tra l'altro in un documento americano ho accanto al suo nome una decidura che dice sì scheda cioè vedi la scheda perché probabilmente c'era qualche problema perché quando c'erano dei problemi mettevano queste notazioni poi dopo ci furono altri campi perché con la cooperazione furono inviati addirittura in 140 campi gli italiani tra cui appunto Monticello ma anche George Meade nel Maryland Fort Knight in California e le Hawaii 5.000 prigionieri furono inviati nelle Hawaii addirittura Flavio Giovanni Conti dovrei descriverle perché siamo radio non televisione la faccia di Carlo Bressan quando ha detto che lei ha un documento ha sentito che ha un documento con la nota vedi nota su suo padre a questo punto io la lascerò perché noi andiamo verso la seconda metà della trasmissione mi riprometto però di ricevere il libro e di fare una trasmissione sul suo libro perché ricordo solo nelle mie storie del Novecento di aver avuto più persone che mi hanno raccontato la loro permanenza negli Stati Uniti è un segmento importante la prigionia nel campo alleato quello di cui si occupa Flavio Giovanni Conti Conti grazie di essere stato con noi aver almeno lanciato questo argomento e poi lo approfondiremo grazie grazie a voi arrivederci buona giornata rientriamo con Ulderico e il figlio irrequieto papà abbiamo detto torna il 6 settembre 1945 a Trieste e ritorna ad Aiello e allora inizia la descrizione nel libro Ulderico è il figlio irrequieto del paese di Aiello e della casa andiamo a sentire sempre letto da Gualtiero Giorgini il paese ad Aiello centro del mondo abitavamo al piano terra di un grande vecchio fabbricato di proprietà della famiglia di mia madre che dava sulla piazza la porta di casa non era mai chiusa a chiave neppure di notte come nella quasi generalità delle altre case del paese quando si usciva la chiave veniva lasciata sulla finestra dietro gli scuri socchiusi così se uno della famiglia ritornava prima poteva entrare mentre i ladri no il sistema ovviamente era efficiente solo perché in quegli anni non c'erano ruberie o forse perché di fronte a noi c'era il forno del pane di Musuruana sempre aperto che fungeva da antifurto l'entrata e l'uscita avvenivano con frequenza ai gran sbattimenti della porta raramente la accostavo perché avevo sempre fretta di andare a giocare con gli amici e mia madre ogni volta con tono imperioso non sta sbatti che porta a onor del vero anche mio padre la sbatteva fuori della porta si apriva il mondo ed avevamo sempre fretta di andargli incontro sul retro di casa c'era il cortile che confinava con Siora Sesa Teresa Venier una signora anziana piccolina per mia madre fonte di tante ricette la migliore era quella del mitico strucolo capucino che mia madre sfornava nelle grandi occasioni mentre la torta gialla e nera era il prodotto finale di due torte una al cioccolato tipo Sacher e una di pan di spagna con crema gialla si tagliavano a fette e si accostavano avvicendandole per formarne due a colori alterni giallo e nero quanti dolci bisognava mangiare in onore dell'imperatore Francesco Giuseppe li meritava tutti? aprivo la porta e sulla destra mi ritrovavo l'osteria di Forte detto Fred dove mio padre giocava a carte ed io quando la televisione era agli inizi al pomeriggio andavo a vedere Rin Tin Tin il telefilm del cane intelligente e fedele più spesso mi limitavo a guardarlo con altri ragazzi dal finestrone sul marciapiede perché se entravamo dovevamo consumare una bibita e non ce lo potevamo sempre permettere su questo Silvano Mario e Giuseppe Geppe i tre fratelli di Augusto detto Gusti il vero proprietario del bar erano intransigenti dopo il bar di Fred c'era il municipio centro della vita politica del paese appannaggio della democrazia cristiana e meta auspicata e irraggiungibile per la sinistra a partire dal 1921 alla vigilia del 2000 dopo oltre 70 anni di assedio è stato finalmente espugnato da noi rossi con in testa il sindaco democristiano che avevamo osteggiato per anni e la vita ecco questa è la storia della casa bagiello dei Bressan e allora raccontiamo di papà che torna in quel 45 e nasci tu poco dopo Carlo Bressan come si inserisce nella vita come ritorna a creare anche cultura nel paese perché è sempre il maestro del paese il maestro cura l'assistenza le pensioni le ricorso sa scrivere sa scrivere sa scrivere bene e insegna a scrivere a più generazioni normalmente insegna solo la classe quinta rifinisce li prepara per gli studi o l'avviamento o le scuole medie all'esame anche per le scuole medie per cui mio padre è stato una persona che ha svolto un ruolo importante in paese un punto di riferimento per molte generazioni un paese in cui si confrontano le parti politiche in quegli anni e si confrontano in modo molto vivace totalmente diverso da adesso fino al 69 fino a piazza Fontana ma si confrontano diverse sedi ma una delle principali la guarà del paese è il chiosco delle Corriere costruito da Silvana Perini al geometra non bruciarmi la lettura perché sentiremo appunto parlare di quel chiostro ma nel frattempo facciamo crescere anche Carlo Bressan che scappa da un famoso dentista del paese ascoltiamo nello stabile della famiglia Ranuth accanto alla trattoria c'era il negozio di mercerie delle sorelle Braida l'Ibraidis dove più che filo e bottoni si smerciavano informazioni sugli amori legittimi o meno del paese accanto alla farmacia Ranuth negli anni 50 operava il dentista De Marchi lo ricordo come un umone con delle grandi mani non proprio delicate che mi sovrastava e con un ferro ad uncino scavava con accanimento nel mio povero dente un giorno gli sono sfuggito dalle grinfie inseguito inutilmente da mio padre e ho attraversato la strada a gran velocità sono entrato in casa e dal terrazzo mi sono infilato in casa di mia zia Maria dove mi sono rinchiuso in un armadio non sono riusciti a trovarmi tranne l'amico Pinuccio che però non ha fatto la spia la casa era stata data in affitto alla famiglia Tortelli provenienti dalla Puglia avevano avviato una latteria e producevano squisite mozzarella questo per ricordare che Pinuccio mangiava mozzarella in carrozza preparate da sua zia che filavano e facevano venire l'acquolina in bocca a noi furlans eccoci qua dopo l'avventura di Carlo Bressan con il dentista dei marchi Carlo Bressan papà aderito al fascismo abbiamo detto per ideali e abbiamo detto anche per miseria povertà insomma la famiglia come avviene la trasformazione politica di papà dove va a finire papà come pensiero politico la trasformazione la riflessione viene inizia già nella campagna di Libia scrive a mia madre già dà delle notizie e dice ning in the van come i jambers andiamo avanti come i gamberici camminandoli indietro e non solo cioè dice fa delle osservazioni quando ritorna ritorna nel suo alveo precedente cioè si riavvicina al partito socialista corrente lombardiana tanto per era la corrente di sinistra e per cui lo ritroviamo in questo ambito ecco questo è il i discorsi politici di papà contè ci furono ci sono stati ci sono sempre stati anche attraverso le letture dei giornali della stampa cosa si leggeva lui leggeva il Corriere della Sera però a casa nostra tu leggevi l'unità nei primi anni 60 non leggevo l'unità se no alcune volte e me la dava Gelino Berton che era il segretario del partito comunista ad Aiello che stava di fronte a noi e aveva la raccolta di tutte le unità ma si leggeva anche il Candido si leggeva Epoca che era un giornale alcune volte anche abbastanza reazionario si leggeva di tutto però non era un condizionamento ecco dalla stampa c'era soprattutto si leggeva libri era uno dei primi libri che mi ha dato il lungo viaggio attraverso il fascismo di Zangrandi che è una riflessione di un intellettuale che ritorna nell'alveo del socialismo ma dove vive Ulderico Bressane dove fa vivere il figlio Carlo e andiamo allora con il racconto con la scrittura di Carlo interpretata sempre da Giorgini ad Aiello del Friuli dove appunto si confrontano tutte le ideologie sentiamo attraversata via Genova Cavalleria si incontrava la drogheria ferramenta di Degenhardt dove uno poteva trovare di tutto se non subito certamente l'indomani i due fratelli titolari Fredo e Enrico erano maestri nel soddisfare la clientela senza mai tralasciare una battuta politica o di attualità erano due persone colte e impegnate politicamente le pareti del grande salotto della loro casa erano foderate di libri Fredo socialista era stato partigiano con le formazioni della Garibaldi dall'autunno 1944 mentre Enrico fino al 1944 era stato fattore del conte pace di Tapogliano fu denunciato per motivi politici e personali non dal conte pace che pure era fascista ma dal contino strassoldo torturato a Palmanova spedito nelle carceri di via Spalato a Udine e successivamente internato in Germania nel primo dopoguerra aveva seguito il pasoliniano sogno di una cosa come molti nel Goriziano andando a costruire il socialismo in Jugoslavia il fallimento è stato inevitabile e duro il ritorno nel 1949 in sintesi Enrico ha preso legnate dai fascisti dai nazisti ed infine dai comunisti a fiume dove era diventato un dirigente del cantiere navale ecco qui proprio il territorio Enrico appestato dai fascisti nazisti e anche dai comunisti il novecento nel nostro territorio Carlo Bressano in pochissime parole poi cresci tu vorrei far sentire ancora delle letture perché la tua storia del 68-69 è un'altra storia parteciperà ai movimenti studenteschi e come vide papà il 68-69 ma mio padre partecipa alle discussioni perché è una persona intellettualmente molto attiva e si discute molto cerca di moderare le mie idee partecipa anche alla vita del circolo Colavini dove si proiettano i film classici di quel tempo di cui ci vediamo tutto Eisenstein Vertov Iori Sievens per cui Burinaz e Derzè cioè noi ci abbiamo visto dei mattoni incredibili anche belli però film e documentari con sottotitoli in tedesco cioè ben prima ancora del Barbaro Trieste perché tutto questo nasce dall'azione di un grande intellettuale che viveva in paese che era il preside della scuola media che era Giuseppe Marcante di cui hai fatto tu proprio l'elogio furebile si può dire è stato un grande uomo è stato un grande uomo perché c'hai le lacrime quasi perché è così commuove ancora oggi è stato così importante questo preside allora mentre noi cerchiamo qui di bloccare la commozione di Carlo Bressane questo significa a miei cari ascoltatori essere insegnante essere preside di una scuola lasciare traccia di modo che anche il mio ospite ancora oggi quando pensa al preside al suo collega poi più tardi alle lacrime e gli occhi allora noi andiamo al chiosco delle corriere e il gioco delle carte con la scrittura di Bressane e la voce di Giorgini negli anni 50 e 60 durante le lunghe e soffocanti estati della bassa frigolana il punto di ritrovo serale era il chiosco delle corriere la gorà del paese proprio davanti a casa mia spesso le persone si fermavano per prendere il fresco a chiacchierare fino ad ora tarda come si conviene in qualsiasi tribù non tutti avevano possibilità e voglia di esprimersi per lo più il dibattito avveniva tra pochi anziani con sporadici interventi dei più giovani il principe delle serate estive era Abel Bressan figlio di Yafet barbiere e parrucchiere grande conoscitore e collezionista di oggetti di antiquariato Abel era famoso per la sua grande passione per le cose belle talvolta si faceva pagare le permanenti dalle clienti con oggetti di pregiata porcellana d'epoca che proprio perché vecchi per loro desiderose di modernità non avevano nessun pregio la sua specialità erano le storie di paese i babetz che solamente un barbiere conosce e le barzellette raccontate in friulano e magistralmente mimate si pendeva dalle sue labbra e dalla lingua tagliente che ci faceva ridere a crepapelle era insuperabile quando il tema toccava la politica entravano in campo altri personaggi mio padre interveniva e polemizzava specie con i socialdemocratici rappresentati dal geometra Silvano Perini e da Renato Wreck tra i pochi che gli tenevano testa per i comunisti interveniva Arrigo Musuruana proprietario del panificio un vero e proprio covo di comunisti il compagno Arrigo con il lancio dello Sputnik sovietico ha raggiunto la sua ora di gloria superata solamente dal missile che ha colpito la luna nel mare della tranquillità seguivano discussioni assurde e interminabili si poteva vedere o meno il cratere del missile sovietico nel punto in cui aveva colpito la luna mio padre parlava della luna come astro sul piano scientifico mentre Musuruana la vedeva solo come un astro esclusivamente politico e non perdeva l'occasione di esaltare la supremazia sovietica nella ricerca spaziale il pubblico più giovane ascoltava e interloquiva con poche domande vigeva il diritto alla parola ma veniva esercitato con parsimonia per evitare rimbrotti e brutte figure il parlare a vuoto non era concesso se non agli adulti qualche anno dopo la risposta americana ha azzerato ogni dibattito e anche in paese è iniziata la rincorsa allo spazio un gruppo di studenti aiellesi dell'istituto tecnico Malignani ha realizzato un missile alto un metro e venti con un ugello tornito alla perfezione presso le officine Rodaro di Ioannis è stato lanciato in mezzo ai campi con propellente solido autoprodotto che aveva come base la polvere di alluminio e con l'accensione elettrica è partito ha volato ed ha iniziato la caduta tra il tardivo panico dei presenti non era stato previsto il paracadute è andata bene perché non ha colpito nessuno nemmeno quelli che si erano nascosti sotto le vetture ma che Italia genuina traspare dalle righe di Carlo Bressano Ulderico e il figlio Erequieto il libro che potete trovare per il tipo gas per editor eravamo così negli anni 60 anni 50 anni 60 un'Italia che lavorava un'Italia che credeva un'Italia che era in conflitto verbale perenne tra le parti un'Italia nella quale però scoppia anche il terrorismo chiamiamolo terrorismo e si sarà il 68 Carlo che cosa ti succede in poche frasi? in poche frasi succede questo con il 69 scoppiano le bombe a Piazza Fontana nel dicembre ma scoppia tutto scoppia questo mondo di confronto anche vivace duro e sparisce cioè noi ci trovavamo tra tutte le forze culturali e politiche in un circolo e poi questo non sarà più possibile come prima perché la strategia dell'attenzione gli spiega le sue ali e aveva lo scopo di destabilizzare per stabilizzare la situazione politica noi eravamo una più grande portaerei del Mediterraneo e le forze atlantiche non potevano permettere che un partito comunista andasse al potere o crescesse la sua influenza dalla parte sovietica risolvevano il problema i sovietici mandavano i cararmati come a Praga e in Ungheria per cui in modo più brutale risolvevano il problema tu che cosa volevi che cosa sognavi in quel 69 in quel 69 si sognava una società una scuola più aperta nuova non si parlava di distribuzione di ricchezza ma di potere sì di partecipazione più che di potere di partecipazione questo era un sogno io ho studiato geologia per poter insegnare ma anche perché la prima scelta nasce quando ho visto la trasmissione un telegiornale nel 63 quando è caduta la diga del Vaillant ecco ho detto l'Italia ha bisogno di geologi no ho sbagliavo l'Italia non aveva bisogno di geologi ma di buoni politici e lì comunque ho deciso di studiare geologia le tue difficoltà con le forze dell'ordine nascono nel gennaio del 69 ben prima di Piazza Fontana ma lì nasce perché alla fine è un dibattito si hanno invitato assieme a tutti gli altri a partecipare alla manifestazione sulla scia di quella di Viareggio di contestazione a un ballo di beneficenza ci vado la cosa è organizzata dal PSIUP e la manifestazione è da un'associazione cattolica ci vado e arrivo tardi perché la macchina si rompe la 500 spande arrivo proprio per volontà da solo e incontro altri due membri del circolo che sono i fratelli Bergamasco uno era segretario dei giovani DC tanto per dire che è della democrazia cristiana e poi è morto pochi anni dopo dopo aver fatto il presidente dell'ospedale di Palmanova e il suo fratello incontro Renzo Marinis che poi è diventato presidente della Lega Vanni De Lucia teatro ingenuo eccetera e dico ci guardiamo diciamo atto di presenza che qua ci mettono e poi tutti a casa qua ci mettono dentro mentre alcuni giocano un po' a farli indiani arriva una macchina grande frenata vola un po' di ghiaia e parte così la carica e prendono me buttano da parte Bergamasco proprio mi caricano mi danno un pugno in pancia mi caricano in camionetta e da quel momento partono tutte le mie disavventure c'è le prequisizioni due prequisizioni per Piazza Fontana e una per la strage di Peteano quando ti liberi di tutto questo? ma mentalmente mai perché resta un segno perché Peteano è stata pesante però comincio diciamo così mi libero dopo diciamo dopo il 74 comincio un po' a distendermi bene io sono giunta alla fine della trasmissione sapete che dobbiamo scappare perché entrano i giornalisti tra poco abbiamo presentato Ulderico e il figlio Irrequieto la guerra di Etiopia e le tensioni degli anni 70 sullo sfondo di una storia familiare Gasper Editore scritto da Carlo Bressan grazie ed è stato con noi Carlo Bressan grazie a te buon lavoro buone cose io lancio ancora una lettura poi ci sono già le giornaliste e sentiamo appunto quel 6 maggio 1976 quando Bressan è col papà al cinema e cosa succede? Biancastella Zanini con i tecnici Carlo Morello Walter Turco vizio Dario Calori il nostro consulente musicale vi ringrazio per l'ascolto è del 6 maggio è del 6 maggio 1976 uno degli ultimi ricordi simpatici e indicativi di quegli anni particolari vissuti con mio padre quella sera eravamo andati al Cinema Italia per una classica serata di cineforum con dibattito avevamo organizzato la proiezione di un classico della cinematografia il fascino discreto della borghesia di Louis Buñuel eravamo seduti uno accanto all'altro e stavamo seguendo le vicende di una comitiva di borghesi affamati di tutto che non erano però in grado di soddisfare i loro desideri non riuscivano a terminare la cena non riuscivano a fare l'amore perché qualcosa interrompeva la loro bramosia di consumare ad un tratto verso le 22 anche la proiezione della pellicola si interruppe preceduta da una vibrazione e da un rumore sordo lungo e profondo tutti si precipitarono all'aperto mentre mio padre ed io restammo seduti e ci interrogammo sulle cause si trattava di un attentato? quando uscimmo per ultimi gli amici ci presero in giro informandoci che c'era stato il terremoto per noi il condizionamento dovuto alla storia torbida e violenta di quegli anni era stato più forte del terremoto che quella notte aveva raso al suolo una parte del Friuli 2,8,8 Grazie a tutti.